Oh Giulio, non si toglie! Non si toglie sta maglia, non si toglie! Scusa, ero qua con la mia giraffa, cosa stai dicendo, Gio? Eh, ma questo libro qua parla di non si toglie, le magliette! Ho capito, ma che giorno sarà la lettura? Sabato? Sabato 21! 1 alla Pecola Nerale? Mattina! Mattina 11, Gio! Non sai niente, non sai il libro! Non si toglie, non è quello di oggi! Ah, e che libro facciamo, quindi? Allora, racconteremo... Vai al computer, colonna sonora! Vai! Ah, questa qua! Ci sono! La conosco, eh, la conosco! La conosciamo! Praticamente, dobbiamo stare attenti al lupo! Giusto! Stoppa, stoppa che mi è notata, mi è avuta un'idea! Ehm, attenti al lupo! Once upon a time, there were three lacone with laser addirittura! Ah, abbiamo risbagliato! Abbiamo risbagliato! Beh, comunque, vi volevamo invitare alla Pecola Nera, sabato 21, perché ci saranno delle super letture e praticamente riusciremo a scoprire insieme che lupo siamo! Buono! Buono! Si spera? Cattivo! E... e poi non so, però non si toglie, è un peccato non leggerlo! Secondo me lo leggiamo, dai! Non si toglie, è comunque il nostro cavallo di battaglia! Però scopriremo che non possiamo! Ciao! Mamma!